Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il Grande Fratello è al centro di una polemica prima ancora del suo debutto. Su Twitter, i fan del reality hanno espresso indignazione perché il nuovo promo non include Beatrice Luzzi. La polemica tra i fan del Grande Fratello è scoppiata in vista della nuova edizione che inizierà lunedì 16 settembre su Canale 5. Le critiche non riguardano i presunti concorrenti, ma il fatto che nel promo del reality manchi Beatrice Luzzi. I commenti su Twitter sono stati molto duri. Senza Bea quel programma lo guarderebbero solo i parenti stretti, erano e sono degli ingrati. Oppure quella che vi ha dato da mangiare per sette mesi non la mettete? Che vergogna! O ancora, forse ne faranno più di uno con diverse immagini. Almeno lo spero per loro, altrimenti non hanno capito niente. La domanda che sorge spontanea è se il promo del Grande Fratello effettivamente non includa Beatrice Luzzi. Se i fan del Grande Fratello avessero avuto un po' più di pazienza, avrebbero evitato una polemica inutile. Lo staff di Alfonso Signorini ha iniziato a lanciare i promo della nuova edizione all'inizio di agosto e ha mostrato i concorrenti dell'ultima stagione solo il 20 agosto su Instagram, inclusa Beatrice insieme.